Calcio, giusto pareggio a Bolfano tra Suttirol e Mantova. I Biancorossi giocano bene per un'ora, ma nel finale rischiano grosso. Un pari all'esordio in Coppa, ottenuto in trasferta e per di più contro una squadra di categoria superiore, non è mai da buttare via. Il Mantova a Bolfano a carezza lungo la vittoria, ma nel finale il Suttirol schiaccia i Biancorossi e raggiunto il pareggio per poco non ribalta il risultato. L'1-1 è il punteggio più giusto. È vero che Franchi ha colpito un pallo sull'1-0 e poteva chiudere il match, ma di legni l'Alto Adige ne ha colpiti due. E anche nel primo tempo ha fatto vedere cose buone, trascinato da Manuel Fischnaller, fratello dell'ex Biancorosso Hannes, talento da vendere. Al diciassettesimo Bellodi ha per amico l'incrocio dei pali, suttiro da fuori area di Fink. L'Alto Adige insiste nelle conclusioni da lontano, ma con scarsa mira. Iacobucci al trentaduesimo regala ai fotografi un tuffo su punizione precisa, ma troppo morbida, di Franchi. E nel recupero, mentre tutti attendono l'intervallo, Del Sante, lanciato da Bersi, sorprende in velocità i due centrali del Suttirol. Si va negli spogliatoi con il morale a mille, ma nel secondo tempo la difesa del Mantova trema, soprattutto sui calci da fermo. Fischnaller fa urlare al gol i tifosi locali, ma è solo un'illusione ottica. Bellodi a tu per tu con Ferrari è decisivo due volte e si guadagna il 7 in pagella. Cross di Bersi dalla sinistra e questa volta il pallo salva Iacobucci su colpo di testa di Franchi. Maschio esce con qualche problema al polpaccio, ma i cambi servono a poco. Nell'ultimo quarto d'ora il Mantova, ormai finita la benzina, si rintanna nella propria metà campo. Bellodi si oppone allo scatenato Fischnaller al trentatresimo, ma quattro minuti dopo la pressione del Suttirol si traduce in rete con il colpo di testa di Ferrari. L'uno a uno sembrava scritto nel destino, ma un attimo prima che l'arbitro fischi la fine, Cascone vuole mettere mano al copione un'ultima volta. La sua girata però si stampa sul palo. Il Mantova evita la beffa. Testa bassa e lavorare, la stagione è appena cominciata. A parte l'ultimo quarto d'ora il Mantova ha convinto, il pareggio accontenta tutti. Le interviste del dopo partita. Io sono molto contento della prestazione. Fino al settantacinquesimo è stata secondo me ottima. Fino al settantacinquesimo minuto abbiamo fatto molto molto bene. E poi è saltata fuori la qualità di corsa e quella giocata che hanno fatto su un errore nostro, su una chiusura sull'esterno, dove a quel punto lì ho dovuto cambiare tre giocatori. Ma io credo che il pareggio sia giusto, perché loro diciamo che essendo categoria superiore hanno secondo me una buona squadra. Noi alla fine un po' la preparazione, un po' tutto. Dopo Maschio per me è una pedina molto importante in mezzo al campo. Un sito forse magari per qualche magugno, non so. Però credo che il Mantova stia facendo bella figura. Diciamo che sono contento per i due gol, però insomma io guardo sempre prima il gruppo, insomma devo dire che abbiamo fatto anche oggi una buona partita. Eravamo un po' stanchi verso la fine, però comunque sia dai la partita è andata, poteva andare meglio, però il pareggio è tutto sommato è giusto dai. Però comunque il paese è una buona prova collettiva, questo è l'importante.